Io vedo che il tempo si è fermato Il momento è un po' più semplice Il momento è un po' più semplice Il momento è un po' più semplice Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola Gli spostamenti a meno che non siano motivati Da tre specifiche circostanze Con più alte ragioni di lavoro Da casi di necessità O anche per motivi di salute Il momento è un po' più semplice Il momento è un po' più semplice 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 È un po' più semplice